La conferenza episcopale Ligure, con una nota del 16 aprile scorso, in ottemperanza le disposizioni governative ha prorogato sino al 3 maggio prossimo le indicazioni ai fedeli, in riferimento alla dispensa di partecipare alle celebrazioni eucaristiche per il momento non ancora consentite. Si conferma invece che le chiese restano aperte al culto e alla preghiera, purché si evitino assembramenti e si assicuri, fra i frequentatori, la distanza di sicurezza. Ovviamente ogni fedele deve considerare come luogo di culto la chiesa più vicina alla propria abitazione o situata lungo il percorso per recarsi al luogo di lavoro o per spostamenti permessi per comprovate necessità. Per il momento restano sospese tutte le cerimonie religiose e non si prevede la celebrazione delle prime comunioni e delle cresime nelle parrocchie prima del mese di settembre. Tuttavia, Papa Francesco I e la conferenza episcopale affermano che è fondamentale dare una risposta alle attese di tanta gente, anche come contributo alla coesione sociale nei diversi territori. Per questo la chiesa è sempre stata presente e continua ad esserlo anche nella interlocuzione con le istituzioni governative per definire un percorso meno condizionato all'accesso alle celebrazioni liturgiche per i fedeli in vista della nuova fase che si aprirà certamente dopo il 3 maggio. Lo ribadisce la conferenza episcopale nel comunicato diffuso ieri a chiusura della sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente che si è tenuto giovedì in via eccezionale con modalità telematica a motivo della pandemia in corso. Del corso dei lavori non si è parlato solo del dialogo con il governo in vista della cosiddetta fase 2 per immaginare come permettere celebrazioni liturgiche non solo per ma anche con il popolo. Fate sempre salve le misure antivirus considerate imprescindibili. Il parlamentino della CEI ha anche allargato la prospettiva sul dopo coronavirus, su come l'Italia debba ripartire con fiducia mettendo al centro la solidarietà e lasciando alle spalle un modello di sviluppo messo in crisi dall'emergenza.